60 minuti di allenamento per mettere alle spalle le vacanze di Natale e la Palermo è tornata in campo oggi pomeriggio al centro universitario sportivo in vista della gara contro l'Empoli in programma sabato 7 gennaio alle ore 18 allo stadio Castellani in Toscana. Lavori prettamente atletici per la squadra di Corini dopo i consueti esercizi di riscaldamento. La seduta si è conclusa con esercitazioni e tiri verso la porta domani per il rosa nero l'ultima seduta dell'anno prima di salutare il 2016 ed accogliere il 2017.